Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Mi lascia un'arma mi lassi un'arma mi lasci un'arma ti lascio un cazzo non ti lascio Frank Easter that to wear le berber Frank Easter that would è morto quasi frankie is the word frankie is the word frankie is the word surfin scusi si si era il 26 come si è lasciato lei vaffanculo nettuno ero visto adesso sono sempre avuta bene però così ma come l'ho vista adesso non stavo guardando sta bene però così perché non si mette sempre così lanci roba leggendario se non ti prendo la card non ha senso quanto tempo ho? 160 secondi quindi 3 minuti vediamo se tento una rotation da qua rientro da dietro e ti prendo la card lo voglio usare come suoneria di anti beccati sto audio non parli nettuno meeeerda se lo clip e si sistemi andiamo sono 500 bits di anti ciao geronimo per favore non metti tico tico per favore per un attimo si è diventato maongra ammazzavo tutti aspetta piaviamo piaviamo beh qua abbiamo arrancato un bel un pochino eh merda 96% champion merda merda eh no in 17 minuti non possiamo no possiamo impossibile raga dai non si può vaffanculo non so perché cazzo mi vengono in mente di fare queste puttanate di merda andiamo arrancare il no build perché sennò gesù 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 e giuseppe non mi metcia l'ecco il microfono cucinella cucinella se non mi metcia l'ecco il microfono cucinella 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 coglione ho e mi porco dai ragazzi mi sono rotto il cazzo mi sono rotto il cazzo io spero che muori figlio di puttana Gesù Cristo benedetto del cielo di Dio Gesù Cristo benedetto del cielo di Dio non ricordavo così God oh raga porco diaz oh ma porco diaz oh ma porco diaz ma com'è possibile ragazzo Nettuno no non vi tirate vabbè oh Cristo vanno vanno lei è colore safe comunque mi ha leccato me lo dite grazie amore mio cioè ma com'è possibile dai raga che cazzo di pad aveva quel figlio di puttana buona coca torta alle mele che cazzo la festa in maschera sono incastrato pronto come un po' in mano sì ma no non ce ne sono no 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 sono qua se appena entrano pronto non puoi non puoi aiutarmi così perché ti aprono la porta e tu non puoi sparargli e invece rompono la sopra ballano ballo un secondo merda siamo in due in tre asbrega mi piace italiano easy asbrega è con noi 100 100 asbrega asbrega pronto 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 andiamo a vincere questa squadra porco cazzo dietro dietro 54 38 one hit one hit figlio di puttana nooo che palle oh cazzo porco cazzo porco cazzo e il cazzo e il cazzo proprio qua 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 cosa cazzo fa 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 ha arrivato proprio qua 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 Deniz auguri Nettuno non abbiamo ancora stai godendo Nick cazzo anch'io ieri quando ho sborrato su quella puttana di tua madre ho goduto e mi sembra che anche quella troia stava ragliando pesantemente quando la mettevo a quattro zampe con la faccia nel microondre mentre glielo sbattevo nel culo con potenza ma si? venga nel cuo nazzo urco figa c'è pinko panko lì potrei fargli veramente l'agguato della vita glielo faccio aaaaaah aaaaaah com'è possibile ma com'è possibile come cazzo è arrivato qua questo? com'è arrivato qua questo? ma com'è arrivato?